dell'anno della Ioseka, innanzitutto è doveroso dirvi perché siamo qua, oggi ci sono stati un po' di inconvenienti, semplicemente il comune ha prenotato la sala che c'era destinata a pareggio a due associazioni differenti, a noi e a una di Franco Bolli, loro sono arrivati primi questa mattina verso le 8, noi alle 11 ce la siamo trovata occupata, quindi per non mi scherzo ai Franco Bolli, siamo dovuti ritiegare qua, in questa struttura, non abbiamo il microfono, l'audio l'abbiamo recuperato solo un'ora fa e il video anche, il pasticcere ha bruciato la torta, le bevande sono andate a mare, è una serata, però vogliamo di andare avanti, per parla veloce comunque quest'anno, anche quest'anno presenteremo la nostra associazione, quindi il consiglio direttivo, la struttura tecnica, presenteremo il calendario, finché ce l'abbiamo già in calendario, quindi fino a marzo del prossimo anno, gli stegi di aggiornamento che vogliamo fare, premiremo i nostri migliori atleti, facendoli vedere anche i risultati che abbiamo ottenuto nell'anno e non per ultimo poi festeggeremo il nostro maestro presidente che quest'anno compie 40 anni di attività. Come avrete letto nel sito, da quest'anno la Iosekan si fa in tre, in effetti possiamo vedere, oltre alla palestra storica di Baretto,